come risolvere l'errore 126 che quando vai ad aprire un'applicazione oppure un gioco esce questo errore può essere per il problema tra il conflitto tra due schede grafiche nel pc se ne hai più di uno oppure può essere per i driver che non hai aggiornato bene sul tuo sistema e quindi in descrizione ti ho lasciato un link che ti porterà sulla pagina, questa pagina per scaricare l'xgameruntime.dll e una volta fatto con questo andremo a fare delle procedure sul prompt dei comandi del sistema quindi per 86, 64, 64 bit e fa e scarica e scarichiamo così l'ultima versione inizia il download e aspettiamo che si scarichi ok eccolo qua il pacchetto xgameruntime estraggo così il file ok xgameruntime.dll ed eccolo qua, questo file va messo nella cartella di windows quindi questo pc, disco locale, windows scende fino a giù fino a trovare il size 32 oppure quello del 64x64 bit io entro qua dentro e ci metto il file dll messo così il file chiudo qua andiamo su powershell windows powershell eseguo come amministratore powershell in descrizione ti ho lasciato quest'altro comando da aggiungere quindi metti il primo metti il primo e fai invio mettiamo pure il secondo fai invio e mettiamo l'ultimo comando servizi di gioco ottieni una volta installato così il servizio del gioco andiamo su gestione dispositivi come ho detto all'inizio ho conflitto tra due schede grafiche quindi schede video disattiva una delle due schede che hai per esempio io ho solamente una sola scheda e non ho problema con questo errore 126 se invece devi fare aggiorna driver aggiorna driver cerchi driver computer scegli un elenco di driver disponibili ed eccolo qua metto questo faccio avanti installa così driver per la mia scheda video mi ha installato così il driver per la scheda video e si è anche terminata la registrazione su OPS quindi una volta aggiornata la scheda video come ho detto se hai più di una scheda tu clicca tasto destro sopra disabilità dispositivo e chiudiamo qua quindi se hai altri problemi su questo errore 126 commenta sotto al video se vi è stato utilissimo iscriviti lasciate like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 Grazie.